Quando aumenta il carovita, non v'è dubbio, da un lato vengono colpite le famiglie perché si riduce il potere d'acquisto e dall'altro lato si allarga la fascia della povertà. Sarà l'aumento dei prezzi il danno maggiore per l'economia abruzzese. Il conflitto in Ucraina, che perdura da ormai oltre due settimane, ha già innescato una guerra mondiale che non si combatte con le armi ma suon di sanzioni ed embarghi. Il prezzo del gas continua a lievitare mentre la Russia minaccia di chiudere il gasdotto Nord Stream 1, così come sale il valore del grano, di cui l'Ucraina è tra i maggiori produttori al mondo. L'ultima volta che vi fu un rincaro dei prezzi così importante era quasi 30 anni fa. L'aumento del prezzo del grano, l'aumento del prezzo dei cereali condurrà su beni specifici italiani e quindi anche sull'Abruzzo a problemi di raffreddamento della ripresa economica che l'Abruzzo stava registrando dopo la pandemia. Eravamo in una fase di crescita, stavamo assorbendo la forte caduta del 2020 e è chiaro che questa guerra interrompe questo percorso e si accompagna a un altro problema molto grosso che è l'aumento dei prezzi. L'aumento dei prezzi, siamo di fronte a una pressione inflazionistica che attualmente è intorno al 6% che è la prima volta dopo il 1995. Quindi dopo 27 anni registriamo questa crescita dei prezzi dovuta al gas e ai cereali. Riguardo le esportazioni abruzzesi, invece queste, secondo i dati Istat, sono cresciute del 5% negli ultimi tre mesi del 2021, registrando un rallentamento rispetto al resto dell'anno. Per la maggior parte l'export è diretto verso paesi europei, Germania in primis, mentre quello verso la Russia vale circa 88 milioni, appena l'1% di tutte le esportazioni abruzzesi. Gli scambi commerciali verso il paese di Putin, infatti, come ci spiega l'economista Mauro, erano già stati ridotti a seguito della crisi in Crimea del 2014. Prima delle sanzioni della guerra di Crimea, l'Abruzzo aveva nei confronti della Russia un potenziale di esportazioni che superavano i 400 milioni. Oggi invece appunto siamo sugli 88, il che lascia prevedere che le nuove sanzioni ridurranno ulteriormente questo flusso di beni verso la Russia. Grazie. 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 Grazie.